mi riconoscete? di solito la gente riconosce le mie canzoni ma non sempre la mia faccia per questo negli alberghi, nei ristoranti, nei negozi uso l'American Express Card ed è più comodo farsi riconoscere con questa che non con la mia chitarra American Express Card in vacanza all'estero con le nuove norme valutarie è ancora più utile e per ogni spesa avrete sempre la vostra documentazione American Express Card non uscite più senza di lei